Uno dei punti di forza di Google Bard è il suo supporto nella programmazione. Essendo Google Bard un chatbot, un sistema basato su intelligenza artificiale, si presta molto bene a task e compiti che riguardano la programmazione, la programmazione informatica, quindi utilizzando uno dei tantissimi linguaggi di programmazione che abbiamo a nostra disposizione. E, ripeto, relativamente a questi aspetti, alla programmazione, è davvero notevole. Può essere davvero di grandissimo supporto. I linguaggi di programmazione, come sappiamo, sono tanti. Abbiamo Java, abbiamo Python, abbiamo Ruby, abbiamo il C, il C++. Ecco che Google Bard, a prescindere dal linguaggio di programmazione, ci può aiutare. Quindi, dato un qualsiasi linguaggio di programmazione conosciuto, Google Bard ci può aiutare a svolgere determinati task. Prima vorrei partire proprio dall'esigenza che può avere una persona, uno studente o un appassionato, di provare a capirne di più relativamente alla programmazione. In questo caso, ho chiesto a Google Bard che vorrei imparare a programmare in Python. Quindi questo è il mio obiettivo. Programmazione Python mi può aiutare? Ed ecco che ci fornisce, innanzitutto, alcuni concetti di base, come imparare appunto le basi, fare pratica, unisciti a una comunità, seguire dei tutorial, leggere dei libri e fare, effettuare, creare dei progetti. A questo punto vorrei che lo strumento mi sia proprio di supporto nell'apprendere le basi della programmazione Python e quindi gli ho chiesto di partire con qualche semplice esercizio. E lui parte dal classico Hello World, che è storicamente il primo piccolo programma che si impara quando ci immergiamo nel mondo della programmazione. Ed ecco che ci dà il codice. Print Hello World, che è il codice che permette appunto di stampare a video questo Hello World. Come si può osservare, il codice viene racchiuso all'interno di blocchi, così da rendere tutto più chiaro. Naturalmente veniamo invitati a usare il codice con cautela, perché comunque non è un codice testato, quindi sempre con attenzione. Per eseguire questo programma basta salvarlo in un file HelloWorld.py, eseguire il comando Python, nome del file che abbiamo salvato, questo qui, HelloWorld.py. Se tutto è andato bene, dovresti vedere il seguente output, cioè la funzione print stampa in output a video la frase HelloWorld. Poi qui ci fa vedere anche l'evoluzione di questo semplice programma, che è dato un certo nome, cioè quindi in input noi inseriamo un nome, e in output ci viene restituito il nostro nome. Anche qui salviamo il file HelloUser.py, che è l'estensione per i file Python, e poi lo andiamo a eseguire. E questo è il risultato. Qual è il tuo nome? L'utente inserisce a video Bard, e quindi la risposta è CiaoBard. E tra l'altro, ecco, notiamo subito una cosa, che possiamo, quando noi lavoriamo con il codice Python, non con tutti i linguaggi di programmazione lo fa, ma con Python sì, abbiamo queste due ulteriori funzioni che vengono attivate. Export to collab, export to replete. Questi sono dei sistemi, semplificando, che ci permettono l'esecuzione del nostro codice. Vedremo nel prossimo video come poter procedere in tal senso. Cosa andiamo a fare adesso? Beh, noi abbiamo, come detto, il nostro codice pronto per essere eseguito, e adesso sfruttiamo queste due nuove funzionalità. Clicchiamo su quest'icona, share and export, export to collab. Clicchiamo, vedete, sta creando il nostro progetto. A questo punto clicchiamo su open collab. Possiamo fare anche la stessa cosa con replete, quindi export to replete. Come vedete, dobbiamo confermare le privacy policy. I understand, open replete. E anche qui si aprirà una nuova pagina. E qui, ovviamente, viene riportata tutta la conversazione, la nostra conversazione Python. Vedete che qui abbiamo la parte di codice che possiamo quindi eseguire. Proviamo a eseguirla, vediamo cosa succede. Quindi eseguicella, clicchiamo. Vedete, in questo momento è in esecuzione. Attendiamo qualche secondo. E vediamo quello che succede. Guardate, qual è il tuo nome, direttamente, in maniera del tutto interattiva, appare in input. Il mio nome, metto Eugenio, invio, e guardate come viene immediatamente eseguito il codice. Capite le potenzialità e l'utilità di uno strumento di questo tipo. possiamo, senza dover installare Python in locale e complicarci la vita, lo possiamo direttamente eseguire da qui. E direi che questa è una funzionalità davvero utile. Qualcosa di simile possiamo fare anche con quest'altro strumento. Vedete? Ci prendiamo solo la parte che ci interessa. Questa qui. Nome. Inserisci il tuo nome in input. Ciao, nome. Proviamo a vedere se funziona. Run. Guardate, qual è il tuo nome. Qui andiamo a scrivere il nome. Premiamo invio. E vedete? E il programma ci risponde. E questo è un modo davvero comodo, molto comodo, di eseguire il nostro codice. C'è anche un'altra possibilità. Scrivere su internet Python online. E possiamo utilizzare uno dei moltissimi strumenti presenti in internet che ci permette di eseguire al volo codice Python. Per esempio questo. Online Python. Proviamo. Poi ce ne sono anche altri. Vedete? C'è Replit, che è quello che appunto stiamo utilizzando noi. C'è questo, GBD Online Debugger, che è anche un compilatore Python. Proviamo questi due. Vediamo se funzionano. Allora, accettiamo. E vedete? Anche qui, senza dover installare Python, dobbiamo semplicemente inserire il nostro codice. Quindi il nostro codice ce lo dovremmo già avere. No, non ce l'abbiamo. Allora ce lo riprendiamo da qui. Questo. Control-C. Online Python. E anche qua cosa facciamo? Chiudiamo la pubblicità. Questo lo possiamo anche spostare un po' più in alto. E clicchiamo su Run. Guardate cosa succede. Anche qui, qual è il tuo nome? Invio. Ciao, Eugenio. Vedete? Quindi questo è un altro modo. Oppure quest'altro strumento che funziona nello stesso identico modo. Togliamo tutto. Togliamo tutto. Control-V. Spostiamo un po' più in alto questo. Questo lo possiamo chiudere. Vediamo se riusciamo. Vabbè, lo lasciamo così. Non so se si può chiudere. Poco ci importa. Proviamo a eseguirlo. Run. E guardate anche qui. Console. Ciao, Eugenio. Vedete l'utilità di utilizzare strumenti di questo tipo? E quindi partendo da un codice che Google Bard ci genera, noi lo andiamo o a esportare Colab Replit oppure apriamo un qualsiasi editor online e lo andiamo a eseguire. Naturalmente abbiamo anche la possibilità di installare Python localmente. Basta fare Python Download, Download Python e per il nostro sistema operativo ce lo andiamo a scaricare e poi possiamo eseguire direttamente dal nostro PC i programmi Python senza utilizzare l'editor online. Naturalmente non solo per Python abbiamo questa possibilità, ma l'abbiamo anche per altri linguaggi di programmazione, per esempio per Java. Quando lo utilizziamo per Java non abbiamo queste due funzionalità abilitate, però possiamo semplicemente andare su internet e scrivere Java Online Compiler e ce ne andiamo a prendere come abbiamo fatto per Python qualche qualcuno. Vedete? Online Java Compiler, Online Java Compiler, Online... Guardate quante ne abbiamo. Vedete? E qui semplicemente andiamo a mettere il nostro codice. Vedete? Qui abbiamo già un esempio Hello World, il classico programma. Basta fare Run e guardate Hello World. Lo possiamo modificare naturalmente. Possiamo cambiare la stringa. Ciao Eugenio, lo eseguiamo ed ecco che il nostro programma lo esegue. E naturalmente se vogliamo la versione per Java andiamo a chiedere a Google... Anzi, possiamo fare una cosa più interessante. Prendiamo questo codice, copia, nuova chat, trasforma questo codice in Java. Trasforma questo codice Python in Java. Quindi mettiamo alla prova Google Barn in questo senso, di trasformare questo codice qui in Java. Ecco la traduzione del codice Python in Java. Vediamo se funziona? Proviamo. Quindi lo andiamo direttamente a copiare. Quindi vedete? Basta cliccare su quest'icona, copy to code. Vedete che se io faccio export sono sparite le iconcine Replit e Collab. Vedete? Non ci sono perché ho cambiato linguaggio di programmazione. Detto questo, noi abbiamo il nostro Java compiler online. Proviamo. Senza così, in maniera del tutto passiva, io prendo il codice, lo incollo e lo provo a eseguire. Vediamo cosa succede. Chiudiamo questa pubblicità. Run. Vediamo se funziona. Ci dà errore. Naturalmente non sempre al primo tentativo riesce a darci un... Però possiamo provare a prendere l'errore, copia, e vedere se ce lo corregge. Quindi, ricevo questo errore. Quindi in maniera proprio così, del tutto passiva, vediamo se in due o tre tentativi riusciamo a risolvere il tutto. Dammi il codice. Quindi io gli dico che lui prova a capire qual è il problema, però io voglio il codice completo. Vediamo se riusciamo a ottenere questo risultato. In maniera del tutto passiva, anche qui, copio, ritorno sul Java, questo qua, chiudo, incollo e rieseguo. Vediamo se questa volta funziona. Anche in questo caso mi continuo a dare errore. A volte ci possono volere due o tre tentativi, dipende. Quindi gli mettiamo l'errore. In questo momento io non sto cercando di risolverlo, voglio solo testare le capacità di Google Bard in questo senso. Ho corretto l'errore. Vediamo. Chat GPT ad esempio riesce molto bene in questo senso. Riesce a correggerlo dopo... Anche lui di solito al primo tentativo non ci riesce, ma dopo un paio di tentativi di solito sì. Vediamo. Niente, qui continuiamo ad avere questo errore. Proviamo ancora un'ultima volta. E magari ci può volere... Ok, di aggiungere l'encoding al commento. Proviamo. Ripeto, in questo momento non sto andando a correggere l'errore. Sto provando giusto così. Niente, qui ci continua a dare questo errore. Scanner, scanner. Mi sembra che abbia complicato il codice inutilmente. In ogni caso, sappiate che lo potete utilizzare anche con altri linguaggi di programmazione. Una volta svolti gli esercizi di base relativamente al fatto di imparare la programmazione, vedete, partiamo con qualche semplice esercizio. Hello World ha visto prima. Possiamo anche chiedergli altro. Io gli ho scritto poi, dopo aver imparato le basi della programmazione Python, vedete, puoi iniziare a imparare concetti più avanzati. Ad esempio, le strutture dati, le funzioni, le strutture di controllo, i moduli, gli oggetti. A questo punto gli ho chiesto, ok, spiegami le strutture di controllo. E qui vedete che inizia a spiegarmi. Le strutture di controllo sono un modo per controllare il modo in cui viene eseguito il codice. Possono essere utilizzate per eseguire il codice solo se una determinata condizione è vera. E guardate, l'istruzione if, elif, else. E qui ci fa vedere come si possono utilizzare se condizione vera, blocco di codice, altrimenti condizione vera, blocco di codice, se nessuna delle due condizioni è vera, else, esegui il seguente blocco di codice. Ad esempio, variabile uguale a 5. Se la variabile è maggiore di 10, scrivi che la variabile è maggiore di 10, altrimenti la variabile è minore uguale a 10. In questo caso la prima condizione non sarà vera, perché in questo caso variabile ha valore 5. 5 è maggiore di 10, falso. Allora non esegue la prima riga, ma va sulla seconda. E dice, restituisce in output, che la variabile è minore uguale a 10. Possiamo naturalmente provarlo. Questo codice ce lo copiamo, stesso modo, copia. Andiamo direttamente su python online, ci prendiamo questo, chiudiamo tutto, incolliamo, tiriamo un po' su questo, run, e vediamo cosa succede. Vedete? La variabile è minore uguale a 10. Se io metto 50, invece, cosa riceverò? Che la variabile è maggiore di 10. Vediamo se è vero. La variabile è maggiore di 10. Vedete? Così si riesce a imparare molto bene, in maniera molto efficace, i linguaggi di programmazione. Possiamo anche chiedere allo strumento dammi 5 esercizi con if e l'if else. Quindi dammi 5 esercizi che utilizzano questo costrutto di selezione. ovvero l'if e l'if else. Vedete? Controlla se un numero è pari o dispari. Questo è un altro programma. Quindi lo prendo, lo copio, lo incollo, in maniera molto rapida. E cosa succede? In input questa volta devo inserire un numero. Inserisco ad esempio 20. 20 sarà un numero pari. Mi aspetto che mi dica che il numero è pari. E il numero è pari. Lo rilancio. Questa volta metto 21. Mi aspetto che mi dica che il numero è dispari. Vedete? E questo è il codice del programma. E così via. Vedete? Ci ha creato i nostri 5 esercizi. Questo controlla se un numero è positivo o negativo o zero. Questo controlla se un numero è primo. E così via. Vedete quanto è utile Google Bard nell'aiutarci a imparare la programmazione? l'alternativa sarebbe andare a prenderci un manuale magari studiare molta teoria e invece così si riesce in maniera del tutto rapida. Ricordiamoci sempre che possiamo esportare il nostro codice in questo caso nel collab ad esempio stesso modo open collab senza neanche dover aprire l'editor online esportiamo questo qui già presente per ogni blocco di codice vedete abbiamo la possibilità di eseguirlo. Vogliamo eseguire questo pari o dispari? Clicchiamo su start qui attendiamo qualche secondo e si apre tutto direttamente qui guardate quanto è comodo e utile quindi attendiamo qualche secondo che si esegua ecco inserisce il numero metto 5 invio il numero è dispari vedete? Veramente veramente molto molto utile e lo stesso vedete se vogliamo eseguire questi altri e qui è molto comodo perché vedete ci riporta tutti i codici e noi via via li andiamo a eseguire mentre qui chiaramente dobbiamo copiarne uno toglierne un altro invece facciamo tutto insieme ecco naturalmente possiamo chiedere a Google Bard di crearci uno script specifico ad esempio creami uno script che faccia qualcosa uno script Python quindi qui voglio utilizzare sempre il linguaggio di programmazione Python che dato in input un numero n quindi un numero qualsiasi mi dia il suo fattoriale e lui qui mi prova a creare uno script che calcola il fattoriale di un numero quindi def fattoriale n calcola il fattoriale ok ha la sua funzione non so se questo codice funziona o meno io intanto in maniera del tutto passiva lo copio lo incollo che è il modo secondo me più veloce intanto di capire se tutto funziona inserisce un numero se metto 2 il fattoriale di 2 è 2 perché fa 2 per 1 se io metto un altro numero run metto ad esempio 4 il fattoriale dovrebbe essere se non ricordo male 4 per 3 per 2 per 1 quindi 4 per 3 è 12 12 per 2 è 24 24 per 1 è 24 dovrebbe essere 24 e infatti vedete il fattoriale è 24 quindi questo codice che mi ha fornito Google Bard sta funzionando correttamente quindi qualsiasi esigenza ci abbiamo chiediamo a a Google Bard di crearmi uno script ad esempio creami uno script python che esegua l'elevamento a potenza l'elevamento a potenza dato un numero n da proviamo così senza specificare niente creami uno script python che esegue l'elevamento a potenza naturalmente ci vorrà il numero n e il fattore da elevare vediamo come lo gestisce inserisci la base inserisci l'esponente vedete ha già capito che bisogna inserire in input questi due valori e tra l'altro vedete che ci spiega ci spiega tutto se io voglio capire meglio spiegami nel dettaglio spiegami nel dettaglio questo codice visto che io magari sto imparando la programmazione voglio che mi venga spiegato bene questo codice e lui adesso proverà vedete passo per passo me lo spiega vedete ogni linea mi dice quello che fa guardate che spiegazione dettagliata è così che si riesce davvero a capire la programmazione molto bene in ogni caso io me lo copio anche qui in maniera passiva lo incollo vediamo se funziona giusto per curiosità inserisci la base metto 2 2 elevato alla terza che dovrebbe dare 8 vediamo 2 elevato a 3 uguale a 8 direi che funziona perfettamente e quindi così potete divertirvi e procedere anche voi ripeto potete utilizzare anche altri linguaggi di programmazione ad esempio creami uno script java che dati in input un numero n mi restituisca il fattoriale vedete in questo caso lui lo scrive con java quindi non è non è un problema quale linguaggio di programmazione utilizzate altra funzionalità molto utile è la spiegazione di un codice python che magari abbiamo preso da internet quindi io cosa ho fatto ho aperto un nuovo tab ho scritto esercizi svolte in python e vedete qui abbiamo tutta una serie di esercizi livello principiante poi magari abbiamo il livello intermedio scorrendo vedete questi livello intermedio e quello che possiamo fare è chiedere a google bard di spiegarci un certo codice ad esempio questo qui generatore di password quindi questo qui è un codice che ci va a generare una password casuale proviamo soluzione vedete qui abbiamo questo codice che ha già una bella lunghezza noi cosa facciamo adesso ce lo copiamo queste sono due soluzioni quindi ci prendiamo la prima ctrl c e chiediamo a google bard di spiegarci questo codice spiega il seguente codice non dobbiamo specificare altro cioè semplicemente lo incolliamo e lui ce lo dovrebbe spiegare vediamo se capisce effettivamente cosa fa noi lo sappiamo l'abbiamo letto qui che questo codice scrive una funzione generatrice di password vediamo certo ecco una spiegazione del codice python che ha fornito quindi ci restitui ci riscrive correttamente il codice vedete tutto indentato correttamente formattato bene il codice inizia impostando i moduli random eccetera il modulo random fornisce funzioni per generare numeri e sequenze casuali vedete ci spiega passo dopo passo proviamo a chiedergli riassumi in poche parole cosa fa il codice quindi qui abbiamo una spiegazione dettagliata magari non ci fa fatica adesso leggerla tutta completamente vediamo se ce lo riassume velocemente non ha capito direi proviamo a scrivere riassumi spiega in poche parole cosa fa questo codice lo rincolliamo vediamo se è un po' più sintetico se non mi sta a spiegare passo dopo passo questo codice eccolo qua genera una password casuale l'utente ha la possibilità di scegliere una password semplice 8 caratteri lettere e numeri o una password complessa 20 caratteri lettere e numeri e simboli direi che ha perfettamente capito cosa fa questo codice poi qua tra l'altro vedete ce lo spiega passo dopo passo quindi a partire da un codice che magari io sto imparando non comprendo bene lo incollo lo metto su google bar e lui mi spiega passo dopo passo possiamo anche chiedergli di dammi una variante di questo codice quindi una versione alternativa dammi una variante di questo codice vediamo se riesce attendiamo qualche secondo ed eccola qua che genera una password casuale con una lunghezza e una complessità maggiore vedete ci chiede se vogliamo una password semplice media o complessa in base a quello che scriviamo noi lui esegue vedete questo è un esempio di codice ecco un'altra variante guardate ce ne crea un'altra variante ulteriore quindi direi che in ambito tra l'altro abbiamo poi la possibilità di vedere anche gli other draft quindi altre varianti ancora quindi ricordiamoci sempre poi queste funzionalità però ecco anche in questo caso google bard si dimostra veramente all'altezza vediamo adesso come se la cava google bard nella correzione del codice quindi nuova chat proviamo a chiedergli un codice python che dato un numero n mi dice se è pari o dispari quindi scrivi che dato in input n mi dica se è pari o dispari vediamo se riesce a capire bene scrivi un codice python che dato in input n mi dica se è pari o dispari eccolo qua questo è il nostro codice lo copiamo adesso nuova chat questo codice funziona naturalmente lo proviamo vediamo se è vero che funziona quindi ctrl a ctrl v run funziona metto 10 il numero è pari benissimo riproviamo con un numero dispari così siamo sicuri 11 inserisce un numero 11 il numero è dispari direi che funziona perfettamente bene cosa facciamo adesso nuova chat e andiamo a modificare il codice rendendolo sbagliato quindi correggi questo codice lo incolliamo io cosa faccio vado a cambiare qualcosa tolgo un uguale in questo modo non è più un confronto ma è un'assegnazione il codice naturalmente non funzionerà se io provo vado qua vado scusate vado qua metto un solo uguale lo provo a eseguire guardate cosa succede mi dà errore vedete syntax error invalid syntax quindi è errato vediamo se google bar me lo corregge quindi invio correggi questo codice ho messo un uguale solo attendiamo qualche secondo il codice è corretto ma c'è una piccola imprecisione l'istruzione guardate è equivalente a quindi il codice che questo è scritto come segue vedete ci dice che la dobbiamo mettere con doppio uguale vedete ce la riporta nella forma corretta quindi io la copio questa volta la rincollo la provo a eseguire e naturalmente questa volta funziona inserisce un numero 15 il numero è dispari quindi come vedete google bar ci aiuta molto anche nella correzione di un codice quindi noi magari facciamo i primi esercizi scriviamo il nostro codice ma non funziona perché abbiamo fatto uno o più errori ecco che google bar ci può aiutare a capire e a risolvere questi errori grazie a tutti